Atalanta si cambia! Antonio Percassi, ex difensore dell'Atalanta e ora imprenditore edile, è proprietario di parecchi centri commerciali e nuovo patron della società bergamasca. L'ha comprata dalla famiglia Ruggeri per una cifra attorno ai 12 milioni di euro. Per Percassi è un ritorno, era già stato presidente dell'Atalanta negli anni 90 con Lippi e Prandelli allenatori. Ora per la Serie B potrebbero restare Mutti, ma il sogno a quanto pare resta sempre quello di Stefano Colantuono. Gianluca! Sì Manuela, Colantuono ha già lavorato due anni fa lì, portò l'Atalanta su, quindi è un allenatore già conosciuto. Diciamo che siccome ha fatto bene e ha avuto un buon feeling con il pubblico e con la città, sarebbe l'ideale per riportare l'Atalanta in Serie A. 25 anni dopo, grande festa ieri infatti al Bentegodi per il 25esimo anniversario dello storico scudetto del Verona 85. Stiamo vedendo adesso questa bellissima grafica, allora commentiamola insieme. Vedi Manuela, classiche favole che succedono una volta nella vita, fortunatamente... Raramente, 25 anni fa successo e fu una cosa fuori dal normale perché il Verona non era tra le favorite, uscì fuori alla distanza e coronò una bellissima annata con lo scudetto, grazie comunque a una società sana, seria e un gruppo di giocatori molto umili e portati per la società. Adesso per la nostra rubrica quotidiana, Grandi Azzurri, quest'oggi parliamo veramente di un grande campione, ossia Valentino Mazzola. Scomparso a 30 anni nella tragedia di Superga, Valentino Mazzola in azzurro ha avuto meno fortuna che con il Toro per lui, con la Nazionale, solo 12 partite e 4 gol. Memorabile un 4-4 con la Svizzera con 4 suoi assist. Valentino Mazzola, uno dei più grandi calciatori italiani di sempre, anche senza competizioni internazionali. Beh, qui dovremmo veramente spendere tante tante parole per questo grande giocatore. Sì, questo è un grande campione, uno dei più grandi di tutti i tempi, del Torino e della Nazionale, che ha fatto epoca perché la sua storia è rimasta negli anni caratterizzata da un grandissimo uomo e da un grandissimo campione. Sicuramente. Adesso passiamo a un'altra nostra rubrica, grandi momenti azzurri. Vediamo al Mondiale del 1978, l'Italia nel girono eliminatorio batte anche l'Argentina. Ecco l'azione Rossi-Bettega che porta al gol della vittoria azzurra. Vediamo insieme questo filmato. Qu'è tremendo 11. Bueno, pues tenemos a Fillol, Gentile, Passarella, Tardelli, Ardiles y Kempes. En la selezione ideal, en el 11 ideal, 6 jugadores de los que estamos viendo aquí. Asi che questo ha parlato per si stesso, abbiamo avuto chiaro di che partito stiamo vedendo. Entre due selezioni, attenzione qui può marcare il gol, Bettega! Marcò Bettega! Ha marato il 0-1 Italia, gol di Bettega. 22 minuti della prima parte. Che sensazionale, la parecchia hicieron Bettega e Paolo Rossi, la devoluzione del tacón di Paolo Rossi. Justo per il sito in cui entrava Bettega. E Bettega con la derecha cruzò, pegadito al palo, derecho, lejos dell'alcance di Ubaldo Matildo Figliol. Bene, riempi tornati in studio. Adesso è il momento dell'altra nostra rubrica, le altre squadre del Mondiale. Con il CT, Domenech ormai in pensione, arriverà Blanc, senza tre seghe, con Henri Indeglino. È una squadra non eccezionale. La Francia punta sui fantasisti, Ribery e Golcouf per arrivare lontano, partendo a fare i spenti come l'Italia. Come l'Italia. Sicuramente, non possiamo dire veramente in maniera diversa. Esattamente come l'Italia. Anche questa è una nazionale un po' avanti con l'età, con alcune individualità ancora importanti. Ma secondo me c'è un allenatore che lì non è ben visto dai giocatori. E questo sarà secondo me il problema maggiore che avrà la Francia. Grasso non è bello. In le città del Sudafrica, Carlos Alberto Pereira, ha deciso di non convocare il giocatore più famoso, Benny Bencaltry, che gioca in Inghilterra nel West Ham. Motivo? Aveva promesso di dimagrire, invece non ha perso nemmeno un grammo. Quindi, chili di troppo, hanno, ahimè, non portato bene al giocatore che rimarrà a casa. Ebbè, diciamo che è una cosa giusta. La forma fisica per un atleta è la prima cosa. Quindi, se gli è stato detto di fare questa dieta per tenersi in forma, la doveva fare. È giusto, ci sono delle regole che devono essere rispettate. Chi non le rispetta non viene convocato e secondo me ha fatto benissimo. Bene, e adesso noi vediamo delle altre immagini. Un gol dell'interista Schneider in questo premondiale. Stiamo parlando dell'amichevole Olanda-Ghana, terminata 3-1. Vediamo insieme le immagini. Siamo tornati insieme. Allora, Gianluca, abbiamo visto questo gol. Commentiamolo insieme. Sì, sicuramente è stato un calcio d'angolo lì, comunque sono schemi provati, come si vede. Schneider si è posizionato lì al limite dell'area, ha ricevuto sto a palla. L'unica cosa è che loro hanno posizionato male in difesa perché hanno lasciato completamente libero lui di poter calciare. Quindi sicuramente una prudezza sua, ma una disetanzione della difesa del Ghana. Bene, allora noi amici da casa siamo quasi in chiusura. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Granata Doc, con inizio alle ore 21, conduce come sempre Carlo Testa. E vi ricordo subito dopo Toro Amore Mio, con Fabrizio Turco, tanti gli ospiti anche questa sera. Si parlerà ovviamente di questi benedetti, ahimè, play-off. Ricordiamo anche un altro importante appuntamento, quello con i mondiali. Infatti Quarta Rete seguirà per tutto il mese i mondiali di calcio, tutti i giorni a partire dalle 12.30 alle 14.30. Anche sabato e la domenica io e Cristiano Tassinari ci alterneremo per commentare insieme le partite dell'Italia e non solo quelle ovviamente, quindi tanto calcio ancora in questo caldo mese di giugno e di luglio. Ringraziamo per essere stato qui con noi nei nostri studi Gianluca Lanzoni, allenatore UEFA. Grazie Gianluca. Grazie a tutti voi. Termina qui l'appuntamento con Qui Calcio. Noi ci vediamo come sempre domani alla stessa ora. Grazie per averci seguito.